ciao a tutti ragazzi ciao bentornati nel nostro canale youtube video di oggi dedicato alla recensione di one piece numero 100 celebration edition di star comics si partiamo benissimo dalla confezione vedete qua one piece 100 con insomma tutta confezione ricoperta da questa mappa e la firma di ichiro oda bello anche la scatola fatta veramente bene si one piece 100 il star comics chiaramente ok vediamo un po qua dietro we are one è davvero davvero bello spettacolare ricordiamo il prezzo di questa confezione ovvero 18 euro ok adesso andiamo ad aprire allora vediamo un po se riusciamo a farlo vedere sì certo per bene ecco qua io diventerò il re dei pirati eh beh no questa già dalla confezione davvero molto molto bella sì è tanta roba poi è stato ricoperto da anche la carta vedete con tutto il logo sia di one piece che della star comics eh sì lo tema insomma dei mugiwara e allora all'interno troviamo aspettate vediamo un po se sì ah tu tieni qua facciamo vai ah sì certo ok ecco all'interno chiaramente troviamo il numero 100 ah eh sì con vabbè questa variant ah davvero bello eh sì allora questo eccolo qua è il numero bellissimo e c'è questa sovracopertina trasparente ma davvero bella bellissima edizione ecco qua ora andiamo tra poco a vedere il volume nel dettaglio intanto vi facciamo vedere cos'altro è presente allora c'è questa dovrebbe essere sì il poster racchiuso in questa specie diciamo a stile pergamena bellissimo ora io sinceramente vediamo sì si può sfilare così penso ma lascerei io lascerei intatto mi piace poi a rimetterla a posto secondo me viene fuori un porcaio mettiamo una foto qui sì comunque come vedete all'interno c'è il poster che comprende l'illustrazione con tutti i personaggi e abbiamo il messaggio di Eichiro Oda bellissimo vedete tutto scritto in giapponese insomma parlando del capitolo 100 chiaramente abbiamo anche la traduzione italiana eh sì sono 100 insomma dei volume 100 il capitolo 100 insomma tanta roba davvero allora poi vediamo un po' dovrebbe essere una specie di cofanetto per contenere se non mi ricordo male cioè all'interno di questo dovrebbero andare anche gli altri volumi eh sì infatti così uno può mettere i volume 98 e 99 qua dentro eh sì qua abbiamo delle pubblicità allora 2022 preparatevi sì per l'episodio numero 1000 qua abbiamo la pubblicità non so ma pubblicità del film di One Piece Red ok guarda gli episodi su Crunchyroll aspettate che vedo se c'è qualcosa ah no non c'è nessuno ah questa è proprio una cartolina una cartolina sì dai cartolina di Crunchyroll sì 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 eh io direi che ok i contenuti erano questi sì li hanno fatti vedere tutti più o meno comunque sono questi qua beh però devo dire che considerando il prezzo ci sta abbondantemente sicuramente sicuramente ok eccolo qua è un'altra roba eh sì sì questa è la Celebration Edition poi chiaramente uscirà anche insomma c'è anche l'edizione normale sì 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 certo sì qua siamo nel mezzo della saga di Wano e il volume 100 vediamo un po' sì sì va dal 1500 al 1500 insomma dei capitoli sì 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 tanta roba davvero eh bellissima edizione comunque questa volta la Star Comics ha fatto davvero ah bellissimo un capolavoro con questa insomma con questa specie di limited edition sì chiamiamola così sì chiamiamola così quindi ragazzi che dire il nostro video recensione era questo insomma è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao